Chiediamo il nostro lavoro di portare i ragazzi a scuola, i ragazzi non rimanere a casa, perché è un diritto sia per noi lavoratori e sia per i ragazzi disabili di non stare a casa. Vogliamo, noi vogliamo tornare al lavoro, desideriamo tornare a lavorare, sia per i ragazzini che hanno il diritto di andare a scuola, di integrarsi nella scuola, perché dove sta l'integrazione? Stiamo tornando indietro. Ma in questo momento i ragazzi dove sono? A casa, i ragazzi sono a casa, non tutti stanno frequentando. Quali zone sono interessate? Pettineo, Cusa, Sant'Agata, Caronia, Torrenova, San Fratello, Rocca di Caproneone, tutta la zona membro idea, l'8-1. Lotto B-1. Sì, sì.